ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale allora oggi nella rubrica per quanto riguarda i fondotinta testiamo i fondotinta vi faccio vedere l'anastasia foundation il 140 warm perché è una w questo è quello che mi è stato dato da sephora e mi è stato consigliato dalla ragazza perché si avvicinava tantissimo il mio colorito lei mi ha detto che è buono per me tutto quindi io lo voglio provare testare visto che sto uscendo proprio per vedere se è buono per quanto mi riguarda e così quando ci saranno gli sconti cercherò di prenderlo perché se è buono sinceramente lo voglio prendere allora faremo come le altre volte quindi un lato metterò l'applicherò con la spugnetta l'altro lato l'applicherò con il pennello allora andiamo a metterlo e mi aiuto con un pennello con un pennello pulito quando cerchi un pennello pulito non lo trovi mai perché ho una matita nera qua dentro allora andremo a mettere prima da questo lato e l'applicherò con il pennello che spero di vedere al più presto allora così non mi sembra proprio tanto tanto scuro non so se è ossida perché sinceramente io cioè è la prima volta che lo provo quindi non ve lo so dire lo applico con lo 06 di sephora questo pennello mi piace tantissimo lo trovate in una box ma lo vende anche singolarmente sephora quindi lo potete anche acquistare allora proviamo io ho già vedo delle strisciate si non già nemmeno ne ho prodotto vedo delle strisciate con il pennello il colore sembra buono ma lo vedo forse troppo troppo rosato devo togliere il burro cacao andiamo a vedere mi piace dire questo pennello andiamo a vedere da questo lato come si comporta con la spugnetta la spugnetta come sempre io ve lo ripeto tutte le volte io la bagno pochi minuti prima di iniziare a fare il video quindi è bagnata non è umida che esce acqua vedete se io la strizzo non esce acqua però è abbastanza umida quindi ovviamente un pelo ovviamente avendo anche io li preferisco abbastanza liquidi proprio vi dico la mia pure sincera verità li preferisco più liquidi ovviamente è messo nel pottino quindi la mia diciamo recensione è data dal dal pottino da quello che c'è nel pottino questo è da dire allora io nel naso lo vedo vedo proprio da questo lato da questo lato vedo tutta la pelle non so se si riesce a vedere tutta la pelle è screpolata in questo periodo non lo so perché quando mette il fondotinta mi porta un prurito qua vicino al naso non lo so allora la stesura direi che è buona anche col pennello io preferisco con la spugnetta perché riesco a farlo penetrare meglio come coprenza non ha una coprenza alta ma ha una coprenza bassa io direi bassa perché avevo le guangiotte rosse e ce l'ho tuttora perché ho fatto una specie di scrub ho utilizzato il clarisonic prima di truccarmi mi sono fatto uno scrub e tutto quindi per quanto riguarda sì credo che vabbè a me piace in estenza io non ho problemi di non ho segni particolari sul viso quindi per me va anche bene adesso vado a incipriare il tutto finisco la mia base e poi torno da voi allora ho appena finito di fare il make up mi sono vestita ho pettionato leggermente i capelli ho fatto solo la frangia cosa posso dirvi di questo fondotinta? allora la prima cosa è che la colorazione è molto più rosata del mio colorito quindi la colorazione non è esatta dovrei prendere un colore un po' più neutro questo è troppo rosa per il mio anche se tipo non si vede il distacco non si vede tanto però se qualcuno si avvicina noterà il collo diverso dal viso perché il viso è molto più rosato invece il collo è più diciamo un colore più naturale allora come fondotinta mi piace mi piace sia la stesura del pennello sia per quanto riguarda la spugnetta in entrambi mi piace devo dire che non si nota proprio tantissimo io forse perché ho fatto tipo nel naso ho un pochettino la pelle secca quindi lo noto però per tutto il resto del viso sinceramente mi piace devo dire che mi piace l'unica cosa è che la tonalità del fondotinta è sbagliato è molto più rosata invece io ho un sottotono proprio neutro prediligo diciamo i fondotinta più neutri io adesso esco e vediamo come si comporta il fondotinta durante queste ore perché sarò fuori un paio d'ore e quindi poi in caso vi farò sapere come si è comportato fino adesso sono le 12.38 quindi vediamo se posso ci vediamo più tardi per vedere come si è comportato il fondotinta ciao a dopo allora questa è la parte finale per quanto riguarda la recensione per quanto riguarda il fondotinta allora esattamente sono le 17.11 non so se si vede dal cellulare scusate se si vede dal cellulare sono le 17 sono le 17.11 io mi sono truccata stamattina allora cosa posso dirvi per quanto riguarda il fondotinta allora la tenuta è buona mi piace devo dire che mi piace mi fa un effetto strano nel contorno del naso ma credo che sia il fatto di avere la pelle screpolata ho anche messo la crema e tutto però devo provarla con altri prodotti l'unica cosa che vi posso dire è che il colore di questo fondotinta è leggermente più rosato del mio colorito quindi il distacco tra collo e viso si nota però sfumato ovviamente perché poi l'ho sfumato anche nel collo con la spugnetta e tutto devo dire che armonizza un pochettino la situazione mi piace come effetto non è pesante sul viso anzi è molto molto leggero io non lo sento mi sono anche toccata spesso il viso mi sono anche appoggiata qui con la mano e non si è tolto non si è diciamo spostato di una virgola mettendo sia il blush che l'illuminante che mettendo anche lo spray non ho avuto nessun tipo di problema mi vedete un altro rossetto perché ovviamente sono andata a mangiare quindi si è tolto io metto tempeno caota mi sembra mia nipote Noemi io ho messo la tinta labbra questa qui di Sephora che mi sta piacendo tantissimo che è la numero 77 mi piace molto e ha questo effetto abbastanza nude che gradisco tantissimo e niente che dirvi per quanto riguarda questo fondotinta per me è promosso mi piace mi piace veramente tanto l'effetto mi piace non si vede troppo che io ho il fondotinta è leggerissimo sulla mia pelle devo dire che è un ottimo fondotinta il colore è sbagliato forse dovrei prendere una colorazione più naturale invece di prendere quella warm perché ora non mi ricordo cosa significava warm comunque vi ripeto vediamo se ce l'ho qua perché ho fatto anche altri video nel frattempo che sono tornata questo vi ricordo che è Anastasia Foundation il 140 warm quindi credo di prendere altre colorazioni però forse sul 140 ci siamo devo prendere un altro sottotono per quanto riguarda questo video ovviamente è tutto se avete delle recensioni che vi servono per quanto riguarda i fondotinta scrivetemi un commentino qua sotto se volete aiutarmi per quanto riguarda il mio canale vi prego di spolliciare e se volete condividere il mio video nella vostra community io per questo video vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao